Musica Benvenuti, benvenuti alla prima puntata di A2x2, la rubrica che da oggi e per le prossime settimane andrà a esplorare le vite private dei nostri VIP Bolzanini e Altuatesini. Perché insomma, cosa succede quando i nostri VIP sono davanti alle telecamere o nelle conferenze stampa? Lo sappiamo tutti. Ma invece quando sono a casa loro, nel loro tempo libero, cosa accade? È esattamente quello che vogliamo andare a scoprire. Non potevamo ovviamente nella nostra lunga lista di VIP partire dal cittadino 1 di Bolzano, sindaco Luigi Spagnoli. Buongiorno. Buongiorno, grazie mille tanto per aver accettato il nostro invito. Ci mancava altro. Per essere il primo a sottoporsi alla mia lunghissima lista di domande. Mi terrorizza un pochino. E fa anche un po' bene. Bene. Ora, siccome l'intervista è informale, glielo chiedo subito, posso darle del tu? Volentieri. Perfetto. Allora, Luigi, prima di partire con le domande, io devo garantire la mia incolumità e l'incolumità di chi lavora con me e quindi sono costretta a farti giurare sulla foto di Ötzi. Giura che dirai tutta la verità e nient'altro che la verità? Giuro che dirò tutta la verità e nient'altro che la verità. Giura che risponderai a tutte le mie domande. Beh, questo un attimo. Vediamo. A quasi tutte? A quasi tutte. E giura anche che non ti arrabbierai e non te la prenderai con me perché insomma si sa scherzando. Non mi arrabbio mai neanche con persone assolutamente che se lo meriterebbero. Benissimo. Allora, giuramento fatto. Possiamo iniziare. La foto di Ötzi è fantastica. Ci siamo impegnati per trovarla, la più bella di tutte. Allora, Sindaco Luigi Spagnoli. Sappiamo tutti, ma Luigi Spagnoli chi è in 30 secondi? Uno che è nato a Gries, che ha fatto le scuole Rosmini, poi Archimede, poi Leccio Classico Carducci, poi ho fatto l'Università Firenze, mi sono arrivato in scienze forestali, ho lavorato nella scuola, ho lavorato nel comune di Bozzano per tanti anni, ho fatto il direttore del Parco Nazionale dello Stelvio e un giorno dopo la vicenda dei sette voti per cui il vecchio Sindaco Salghetti ha perso l'elezione nel 2005, qualcuno mi propose di venire a fare il Sindaco e io accettai e vinsi l'elezione e da allora sono qui. Ed è anche nella sua vita un marito, un padre? Sì, mi davi del tuo, nella mia vita sono sposato con mia moglie ovviamente, ho due figli. Che si chiamano? Marco e Lidia. E quanti anni hanno? Te l'ho detto che volevamo sapere tutto. 17-13. Hanno seguito le tue orme, sono anche loro a Carducci o? No, loro fanno i loro percorsi, va bene così. Sposato da tanti anni? Sposato da 20 anni. Caspita, si è sposato magari qua nella sala della Giunta? Come fanno adesso? No, mi sono sposato nella chiesa parrocchiale di Gries. E a casa? Diciamolo, aiuti la moglie? Sei quello che cucina quando torna dal suo lavoro di Sindaco? Io credo che la mia parte a casa la faccio, soprattutto lavo i piatti. Più che lavarli, li detergo e li metto in lavastoviglie, perché sono nettamente quello che ottimizza meglio lo spazio in lavastoviglie in famiglia. Quindi è meglio che facciamo meno lavastoviglie, quindi minor consumo energetico. Che in effetti il gioco di incastrare i lavastoviglie, ci vorrebbero dei diplomi e delle lauree. Ecco, non è una cosa facilissima, sì. E invece che papà sei? Un papà severo? Ma questo bisognerebbe chiederlo ai miei figli. Io sto benissimo con loro, bisogna chiedere a loro se stanno altrettanto benissimo con me, ma comunque mi pare che alla fine dei conti ci divertiamo spesso insieme. E nel tuo tempo libero invece, tra una conferenza stampa, un'inaugurazione e comunque tutti quelli che sono gli impegni che hai come sindaco, nel tuo tempo libero cosa fai? Io nel tempo libero ne ho piuttosto poco, quel poco che ho cerco di lasciarlo a disposizione della famiglia, a me piace andare in montagna e quindi se posso metto gli scarponi, prendo lo zaino e vado verso l'alto. In camminata proprio, quindi niente bicicletta o cosa? No, i miei recenti problemi cardiaci mi impediscono di fare attività estreme e quindi il camminare in montagna è non plus ultra anche per quelli nella mia situazione. E invece a casa sei uno che guarda tanto la televisione piuttosto? Devo dire che la televisione non la guardo mai, per somma delusione di tutti voi altri che lavorate nel settore televisivo, però seguo i video, quando arrivo a casa vado su internet e recupero i video delle cose che sono state girate in città e magari anche che mi riguardano, ma non solo evidentemente, poi leggo abbastanza, mi piace leggere un po' di tutto, sia dalla saggistica, la narrativa, la storia, ovviamente le scienze naturali che sono il mio pane quotidiano. E quindi noi ti troveremo a casa tua sul divano a leggere un bel libro, con magari la moglie che cucina, i figli che… Questo è difficile, no, no, quando sono moglie e figli in giro è difficile leggere, ma poi loro prima o poi vanno a dormire, allora c'è… Sei una tua fa le ore piccole per leggere? No, piccole piccole, no, anche perché dopo i miei malanni ho aumentato il numero delle ore di sonno e quindi devo anche riposare. Beh insomma che male non fa a dormire quelle ore tante? No, anzi, anzi serve. Una dormitina di quelle magari belle lunghe la domenica fino a mezzogiorno, ti capita? No, quello no, quello no, quello no, magari. Però anche se non vedi la televisione, questa intervista la guarderai? Ma la recupererò da qualche parte, la metterete in qualche video, su qualche sito… Se no poi ti vengo a interrogare settimana prossima. Benissimo, sì. E invece sui social come siamo messi? Ai Facebook, Twitter, Instagram… No, io Facebook non lo faccio perché voglio vivere, mentre su Twitter sì perché il Twitter ho scoperto che è un modo per fregare la vostra categoria, perché quando noi mandiamo i comunicati stampa ufficiali, molto spesso non se li fila nessuno. Ma se io faccio un tweet su un tema particolare, tra che te lo recuperano tutti, allora ho scoperto che il tweet funziona meglio il comunicato stampa. Mi raccomando però su Twitter non mettiamoci a insultare cantanti o gente famosa che vuoi succede quello che abbiamo già visto su Twitter. No, il tweet per me è uno strumento di comunicazione abbastanza istituzionale, ogni tanto quando recupero qualcosa di carino lo ritwitto per chi è giusto far vedere che si è social, però per me è a valenza soprattutto istituzionale. L'ultimo l'ho mandato ieri per pubblicare, per far vedere una foto di questa cerimonia di commemorazione dei defunti che abbiamo fatto a cimitero militare con tutte le associazioni italiane, tedesche, soldati, un sacco di gente. Però istituzionale quindi non ci sono selfie del sindaco? No, selfie non me ne faccio, anche perché ho una faccia tremenda, il solo fatto di vedermi in fotografia mi fa tremare bene i pulci. Quindi le foto lascio che me le facciano gli altri, almeno sono professionisti in genere. Allora magari se cosa chiederemo alla moglie se ti può fare una fotografia mentre carichi la lavastoviglie, me la faccio dare in segreto e la mettiamo su Twitter. Non so mica se mia moglie sarà tanto entusiasta di questa cosa, comunque puoi sempre chiedere, vediamo come va a finire. Mi sa che poi andrebbe a decadere il giuramento sul fatto che mi rivolgerai ancora parole e non ti arrabbierai. No, ma mia moglie è una persona estremamente legata al proprio concetto di privacy e quindi è difficile che vada a pubblicare foto di famiglia, però si può sempre chiedere, chissà. E invece sei credente? Assolutamente sì, io vado abbastanza, ogni tanto bigio ma di solito vado a messa la domenica e credo che essere credenti oggi sia anche una sfida, sia una sfida rispetto a un mondo che ha sempre meno posto per la fede e che ha sempre più posto per il dubbio. Allora il convincersi e il convincersi anche che è importante essere di esempio nel senso di avere la fede, perché la fede cristiana è un modo per dare esempi positivi alle altre persone. L'esempio positivo non è che devo essere io, ma io posso essere il tramite di altri esempi positivi e non so chi non ha la fede se riesce a essere altrettanto portato a dare esempi positivi. In genere le persone al giorno d'oggi sono molto più portate invece a dirgliene di tutte di più a destra e a sinistra, a imprecare, a parlare male, a evidenziare gli aspetti negativi delle persone e della vita. La religione serve per cercare di trasportare questo entusiasmo negativo verso un entusiasmo positivo che valorizzi le cose buone. E pensi che in questo senso la figura che abbiamo oggi di Pontefice possa aiutare il Papa? Questo qui è un Papa, Dio ogni tanto qualcosa ce l'ha azecca, questo Papa ce l'ha mandato ed è il Papa giusto che ci voleva adesso, ma non si può dire che non ci volessero i suoi predecessori. Il Papa Vojtiva ha rivoluzionato Santa Madre Chiesa e dopo Papa Vojtiva pensare che arrivasse uno come Bergoglio sarebbe stato troppa manna dal cielo, ragazzi, una cosa alla volta. Cioè è voluto Papa Ratzinger che ha dato una bella sterzata per tornare un po' a mettere i puntini sulle i e poi dopo adesso arriva Papa Bergoglio, ma in questo modo Santa Madre Chiesa è sopravvissuta a duemila anni, se non l'avesse fatto così col fischio che sopravviva a duemila anni. E se invece tu credente appunto che frequenti la Chiesa tutte le domeniche quando puoi, se invece i tuoi figli decidessero di cambiare lotta e di indirizzarsi verso il buddismo, l'induismo o un'altra parte? Io credo che le persone sono libere di scegliere ciascuno il proprio destino. Io nei confronti dei miei figli ho l'obbligo morale di dare loro una serie di convinzioni, di certezze, di nozioni, di indicazioni. Dopodiché loro utilizzano questo materiale che io gli trasmetto insieme a mia moglie evidentemente, insieme agli altri che hanno il compito di educarli, recuperano questo materiale e se lo rielaborano lo usano come meglio credono. Ognuno è il fabbro del proprio destino. Certo, quindi non poniamo limiti in questo senso. Faranno quello che desidereranno. E invece Luigi Spagnoli quando gira per strada, non sto neanche a chiederti se ti riconoscono, perché mi sembra al minimo, un episodio divertente che possiamo raccontare di qualcuno che ti ha fermato per strada o non lo so. Ma ne succedono spesso, anche perché le persone poi quando ti fermano hanno la convinzione interiore che tu sai benissimo chi sono e di cosa parlano. E allora ogni tanto mi fermano e mi chiedono, mi guardano anche magari storto perché quella tal panchina e su quella tal passeggiata è rotta da un pezzo e loro l'hanno segnalata e tu il sindaco non l'hai ancora messa a posto. Oppure succede che il tal paletto è storto. Io ho la fortuna che conosco molto bene Bolzano e quindi se non altro so di quale panchina e di quale paletto parlano. Però da lì a pensare che il sindaco vada armato dell'attrezzatura necessaria a sistemare panchine e paletti, questo evidentemente non è possibile. E invece Luigi in gioventù. Possiamo raccontare una stupidaggine perché non si può dire in altro modo che è capitata a Luigi in gioventù? No, come no? Beh, stupidaggine non si possono raccontare. Stupidaggine si sono fatte e restano là dove sono state collocate dalla storia. No, io facevo sport, non si direbbe, correvo, ero un discreto atleta. Sono molto contento di averlo fatto perché sono convinto che praticare sport a un livello accettabile, è molto formativo per la vita, ti abitua e soprattutto il perdere è formativo. Io quando facevo lo sportivo ero bravino ma perdevo molto più spesso di quanto non vincessi. E allora questo mi ha sicuramente formato. E invece in gioventù hai fatto la leva? No, io non l'ho fatto in militare, mi ha lasciato a casa, avevo un problema a un orecchio e siccome il mio scaglione era particolarmente numeroso, alla fine mi mandarono non il foglio del congedo, sì il foglio del congedo ai sensi di un certo comma, ma sostanzialmente per sovrannumero dello scaglione. So che mio padre quella volta se la prese mostruosamente perché lui voleva che io andassi a fare militare perché riteneva che fosse una fase utile per la mia formazione e quindi voleva andare a parlare col colonnello perché cambiasse idea, mia madre riuscì a trattenerlo a stento. E tu, anzi scusami, immagino che invece sarei stato nell'altra stanza a fare i balletti della vittoria. No, per la verità no, perché io sotto sotto speravo di essere preso in un gruppo sportivo militare e quindi questo mi sarebbe stato interessante come esperienza, però visto che non mi voleva l'esercito, che devo fare? Se proprio devo restare a casa, resterò anche a casa, esatto. Dici tante parolacce? No, in genere no, non credo, se andate a cercarle negli archivi, in pubblico sicuramente no, in privato magari ogni tanto qualcosa scappa. Un cavoletto sgambola? Porco cane, sì. L'ultima persona che poi ha detto ti voglio bene? Mia moglie o forse mia figlia. E l'ultima persona che invece ti ha fatto proprio girare gli zebedei? Se si può dire, non si sa mai che ci sta bene. L'ultima persona che ha fatto girare gli zebedei? Io sono molto pacifico e molto paziente, quindi di solito non mi girano mai. Oh, perfetto, nonostante il tuo lavoro, complimenti. Ultima domanda, anzi ultime domande e poi andiamo in chiusura. Chi vorresti vedere tra dieci anni al tuo posto, qui seduto al tuo posto come sindaco a fare l'intervista al posto tuo? Io direi che non voglio del male a nessuno e quindi non dico nessuno, perché penso che se il grado di difficoltà di occupare questo ruolo nella comunità è in crescita come lo è stato in questi ultimi anni, perché si complicano le cose, perché l'amministrazione diventa sempre più complessa, perché le regole sono sempre più difficili da applicare, perché le risorse sono sempre molte di meno, insomma se va avanti così io non auguro a nessuno di fare il sindaco, poi uno dovrà, perché qualcuno dovrà farlo e gli auguro di cuore buon lavoro, ma non mi sento di dire che potrebbe essere l'uno oppure l'altro, vediamo cosa ci riserva il futuro. E adesso proprio per chiudere, visto che abbiamo detto VIP dell'Alto Adige, VIP di Bolzano, tu conosci bene Bolzano, quindi dobbiamo farti una domanda, un quiz di chiusura, su Bolzano direi? No, sull'Alto Adige, quindi vado a chiederti, quale vallata Alto Atesina ha uno spartiacque? Uno dei due film in questione, ti dico anche che sfocia in seguito nel Mar Nero, è la Val Pusteria, la Val Laurina o la Val Badia? Ti posso correggere però, è la Val Pusteria, il fiume è la Drava, si parla del valico di Dobbiaco, ma la Drava non va nel Mar Nero, va nel Danubio ed è il Danubio che poi va nel Mar Nero, quindi devi aggiornare la domanda. Bene, signore io dopo questa penso che me ne vado, non ci saranno altre puntate di seguito, dopo questa figura pessima non penso che ce ne saranno. Sindaco, io ti ringrazio enormemente per la disponibilità, per la simpatia. È stato carino. Grazie mille. Grazie a voi. Invece con tutti voi che ci state guardando, non posso fare altro che rimandarvi alla prossima puntata, dove saremo invece non più con un politico, andremo direttamente negli spogliatoi dell'Hockey Club Bolzano per intervistare uno dei loro giocatori. Quindi alla prossima puntata, arrivederci e grazie a tutti. Arrivederci. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS